Buongiorno altamente sensibili e ovviamente buongiorno anche a chi non lo è. Oggi voglio riflettere su un argomento che mi sta davvero molto a cuore, cioè intelligenza e empatia. Molto di frequente tendiamo a considerare queste due qualità come estremamente separate, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia, perché quando l'intelligenza e l'empatia si uniscono possono creare un impatto straordinario nelle nostre vite e addirittura nella nostra società. L'intelligenza permette ovviamente di comprendere il mondo che ci circonda, permette di analizzare situazioni complesse, anche molto complesse, e permette di trovare soluzioni innovative. Quindi l'intelligenza è un potente strumento che apre nuove prospettive e aiuta a realizzare gli obiettivi. Ma, d'altra parte, l'empatia ci connette in maniera molto profonda con gli altri, ci permette di comprendere le emozioni altrui, di metterci nei loro panni, di rispondere con comprensione, umanità e gentilezza. L'empatia crea dei legami umani, promuove la solidarietà, contribuisce a costruire una società più inclusiva e compassionevole. Quando intelligenza e empatia si fondono, quindi il loro potenziale diventa ancora più grande. Possiamo utilizzare la nostra intelligenza per comprendere le esigenze degli altri, per trovare soluzioni che migliorino la nostra vita, la loro, e per promuovere il bene comune. Possiamo usare la nostra empatia per guidare le nostre azioni, per prendere decisioni che siano sensibili nei confronti delle persone che ci circondano e per costruire relazioni più autentiche, empatiche, che sono proprio quelle di cui l'essere umano ha bisogno. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, avere intelligenza ed empatia insieme è un grande dono. Offre la possibilità quindi di creare un impatto positivo, di contribuire al benessere degli altri, di costruire un futuro migliore per tutti. Sia che tu sia un genio del pensiero o un cuore gentile, ricorda che il mondo ha bisogno di entrambi. L'intelligenza e l'empatia sono complementari e indispensabili. Uniscile e scoprirai la straordinaria forza di questo grande dono.